Per me è stata un'esperienza importante e determinante ai fini dell'inizio della carriera dopo aver iniziato ad Agliana con l'Aglianese. Ma la cosa bella di Ferrara, anche in quel momento lì dove avevamo delle difficoltà societarie però respiravi un'area importante, una storia di una società importante e questo alla fine viene fuori e quindi la SPAL merita la Serie A e io credo che abbia le qualità, uno per la squadra che ha costruito, per l'allenatore che è un buon allenatore e che si sta dimostrando anche a livello di squadra e di gioco di avere dei concetti giusti e di far giocare bene la squadra, che si salverà.